Massimo Bottelli, direttore lavoro a Solombarda. Si parla in questa organizzazione e questa promozione di questo nuovo centro di Smart City e anche di Safety City e di Smart Safety? Sì, sicuramente sono aspetti estremamente importanti dai quali non si può prescendere. Nella realtà milanese di oggi lo Smart Working e tutti quelli che sono gli aspetti adesso correlati diventano un'assoluta esigenza. In questo senso fin dagli inizi, fin da quando il Comune di Milano lanciò il primo progetto relativo allo Smart Working e alle varie applicazioni che ne conseguono declinate su tutti gli aspetti, noi abbiamo aderito con convinzione e in questo senso abbiamo partecipato anche all'iniziativa della giornata del lavoro agile stimolando sia le nostre aziende, oltre circa 150 hanno partecipato all'iniziativa e anche come a Solombarda ci siamo direttamente impegnati. Ma non solo, in questa direzione rispondendo quindi a quella che è un compito istituzionale di a Solombarda ci stiamo anche preoccupando di diffondere un insieme di buone pratiche relativamente a questi aspetti e proprio in questo senso nella giornata di ieri abbiamo svolto uno workshop nel corso del quale sono stati presentati una serie di esempi di buone pratiche e date una serie di indicazioni. È una strada sulla quale siamo convinti sia necessario proseguire proprio in relazione all'evoluzione sia delle normative sia dei tempi ma in particolare delle esigenze di vita delle persone anche in una logica di conciliazione dei tempi vita e lavoro.